E così qua come sempre ben ritrovati su Meteo Giuliacci, un saluto da Giuseppe De Vitis. Cari amici, attenzione, si cambia dopo aver vissuto queste giornate davvero miti, molto miti, adesso con tempo generalmente bello, a parte la Sicilia, cosa accadrà sul nostro territorio in questo inizio di weekend? Arriverà aria più fresca, se non addirittura freddina per il periodo, contrasto e quindi avremo della instabilità. Guardate, instabilità da prima sul Veneto ma tenderà nella seconda parte della giornata, comunque tenderà però a concentrarsi velocemente tra il pomeriggio e la serata sull'Emilia Romagna, il versante adriatico medio e poi anche basso versante adriatico verso fine giornata, nelle zone interne appenniniche, con sconfinamenti anche su zone tirreniche, basso Lazio e anche sulla Campania. Non escludiamo verso fine giornata e poi soprattutto nella notte tra venerdì e sabato anche delle fioccate sui rilievi, sulle cime dell'Appennino centrale. sul resto del territorio tempo tranquillo e tenderà per fortuna a migliorare sulla Sicilia dopo appunto gli accumuli importanti avremo una giornata tranquilla con cielo sereno o poco nuvoloso proprio sulla nostra isola maggiore. Io per ora ho concluso, cari amici, buon inizio di weekend. Arrivederci!